Dopo la sosta forzata per Alan Reve, torna da completo il campionato di Serie D. Il Lagozano domani affronta davanti ai propri tifosi l'Olginatese, primo impegno di una serie che potrebbe risultare decisiva. I bianconeri lombardi, poi i quarti di finale di Coppa Italia con il crema mercoledì, sempre allo stadio Albertas. Poi, in una rapida successione, Bra, Varesina, Fogore Caratese e Prosesto, prima del super scontro al vertice e il calendario il 15 aprile allo stadio Senigallia contro i rivali del Como. In eccellenza, giornata importante, la capolista Trino rischia qualcosa nel derby interno con l'insidiosa Alicese, mentre lo Stresa parte nettamente favorito sul campo del San Maurizio Canovese che sembra destinato alla retrocessione. Punti play-off per la Romentinese Cerano nel match casalingo con il Verbagna, mentre in chiave salvezza la Juve Domo, dopo il blitz a Pavarolo, vuole il bis alla Felino Poscio con il Lucento. Il Piedimolera cerca di muovere la classifica sul campo di Cigliano con gli orizzonti a Rona opposto al Pondonnas. In promozione, la prima della classe Città di Verbagna ha un esame importante contro la Fulgor Valdengo, trasferta anche per l'Accademia, Borgo Manero 1961 a Novara con la Sparta. A liberazione il derby Omigna dorme a letto, lo legge ospite al Cedersama, Castellettese con il Biancè, Briga a Trecate e Fomarco in casa con le scuole cristiane. In prima categoria il match clou è quello che si gioca a Vogogna, tra i padroni di casa ed il Momo, uno degli ultimi ostacoli sulla strada della promozione per la squadra di mister Chiara Ballotti. Il Lea Ferriolo al Galli alle 17 riceve la Grano, sfida salvezza quella che si gioca al Boroli tra Gravellone e Premosello.